Scontro fra un'auto e una moto nel pomeriggio di oggi a Clusone. L'incidente si è verificato poco dopo le 15 in Viale Gusmini nei pressi della sede della Telecom. Per cause in via di accertamento, una moto condotta da un 14enne è entrata in collisione con una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il ragazzo soccorso dal personale del 118 e quindi accompagnato in ambulanza all'ospedale di Piario. Le sue condizioni comunque non sono gravi.